Aiaia Provenzano! 3,2 Come andate così veloce? E' tutto vero, è tutto vero! Coloro che ci sono sintetizzati ora su M2S Musica allo Stato! Siamo a Rimini con Provenzano Vicente qui in Autofine Summerline! Dal vivo, dal vivo, dal vivo! Infatti approfittiamo per fare un buonissimo buonissimo a tutta Italia! Coloro che sono qui presenti, per voi che state ascoltando! Un bel agosto! Aiaiai Provenzano! Fuori! E ora parte un coro che fa così! Cittadini! Goro! Vai! Aiaiai, subito dopo le mani a tempo, vai! 'sciaciociociociocio – Aiaiai! Grazie a tutti.